Orari in tempo reale, indicazioni sui tempi di percorrenza, servizi accessibili anche per persone con disabilità. Il trasporto pubblico urbano di Arezzo è diventato smart. Spostarsi in città e anche fuori città è diventato più semplice, grazie alle paline elettroniche che permettono a turisti e cittadini di pianificare i propri spostamenti. Fa tutto parte del progetto Arezzo Smart. Le novità tecnologiche di TM, azienda di trasporto pubblico locale, hanno reso più accessibile l'uso del bus, andando ad integrarsi con altri servizi di recente sviluppo a bordo della flotta urbana. Questo progetto si inserisce in un progetto di ammodernamento e della flotta, ma anche del materiale tecnologico a supporto del TPL. In particolare è il frutto di un investimento di 400.000 euro circa, che consente attraverso l'applicazione che è possibile scaricare sia sui sistemi iOS che Android, sia attraverso le paline di poter sapere in tempo reale il tempo d'attesa di arrivo dell'autobus, ma allo stesso tempo anche le percorrenze, avere una tracciabilità grazie al sistema AVM, che è il sistema che consente di avere all'azienda georeferenziati all'istante tutti gli autobus in circolazione. Cerchiamo in questo modo di venire incontro alle esigenze dei cittadini, della città e in genere del servizio di trasporto pubblico. Allora, Assessore, Arezzo sempre più smart, nuove palline elettroniche, nuovi tabelloni, questo merito anche del contratto ponte firmato dalla Regione? Sicuramente sì, Arezzo e non solo, perché dopo la firma del contratto ponte sono ripartiti alle grandi investimenti importanti che sono tesi a qualificare il trasporto pubblico locale, ad avere in Toscana una mobilità sostenibile. Il nostro progetto di gara è un progetto che conteneva forte integrazione dal punto di vista modale per quanto riguarda il trasporto pubblico, forti investimenti sia nei mezzi ma anche nella tecnologia, rafforzamento dell'informazione, integrazione dei titoli di viaggio. Nei giorni scorsi abbiamo presentato a Firenze la carta unica, vale a dire una carta dove si possono caricare titoli di viaggio di più mezzi, sia ferro sia gomma, senza la necessità di dover rifare il biglietto ogni volta che si passa da un mezzo all'altro. Oggi qui ad Arezzo presentiamo queste paline intelligenti che sono importantissime per dare informazione reale a chi sta attendendo il bus per sapere tra quanto tempo arriverà e quindi poter calibrare bene i propri tempi di vita e di lavoro. L'informazione prevede anche un rafforzamento per quanto riguarda chi si trova a bordo dei mezzi. Arezzo è dunque adesso parte di un sistema informativo di TM già attivo in maniera capillare su Siena e Piombino e che verrà prossimamente esteso anche a Grosseto. Sul territorio di Arezzo e provincia si tratta complessivamente di 27 nuove paline e 4 tabelloni. Le paline elettroniche riportano l'orario aggiornato in tempo reale di transito alla fermata e sono dotate di altoparlanti che consentono di vocalizzare le informazioni riportate sugli schermi anche a favore di utenti povedenti. Linea LF2 per SR69, indicatore 59, barra G, 8, Saima, 12 minuti. I tabelloni hanno funzioni complessivamente analoghe, con in più la possibilità di visualizzare lo stallo area di partenza dell'autobus di linea in prossimità di punti nevralgici come le stazioni ferroviarie. Nel progetto Arezzo Smart rientrano anche le paline elettroniche installate o in fase di installazione sul territorio provinciale, ovvero una alla stazione ferroviaria di Monte San Savino, una in via della Resistenza a Foiano della Chiana, una alla stazione di Cortona Camucia, una in piazza Garibaldi a Cassiglion Fiorentino e una, infine, a Pieve del Toppo, nel comune di Civitella, in Val di Chiana.